Le problematiche che sono emerse, ripeto, sono tante, ma in particolare una è quella di dare la possibilità a tutti questi ragazzi di fare lo sporto. Lo sport oggi diciamo che ha un problema non solo per quanto riguarda le strutture, ma anche per quello che è emerso ieri, per il personale che non è formato. E ringrazio anche l'associazione Scherma che ha partecipato ieri all'incontro, che dà la possibilità a una ragazza di fare lo sport che veramente a lei aggrada di più. E una frase che ieri è stata detta in modo particolare dal professore Morghese è proprio quella che non esiste il diverso perché tutti siamo diversi. Ciò dovete consentirmi di dire che è quello che noi come amministrazione, come consiglieri vogliamo portare oggi a tutti i ragazzi, facendo inclusione in tutto e per tutto. In termini concreti come si può operare per formare i formatori, gli allenatori, gli insegnanti di discipline per i disabili? Allora gli obiettivi che ci siamo dati proprio in questo incontro è quello che negli altri incontri che ci saranno, negli incontri futuri, è quello proprio di coinvolgere tutte le associazioni, le federazioni per vedere di trovare un punto in comune e per vedere se anche le federazioni riescono, e chi ben venga vuole formarsi, a dare una mano per garantire lo sport ai ragazzi. Grazie.